Qualche rimpianto Lorenzetti sulla partita di oggi? Quando dei set finiscono tutti ai vantaggi, dei rimpianti ce l'hai, però ce l'ha anche il mio collega penso. È ovvio che essendo noi quelli meno forti e meno bravi, i ramarichi ce li teniamo perché abbiamo meno occasione rispetto a loro. Il ramarico di Lorenzetti per la sconfitta della Diatec Trentino contro la Lube Civitanova, gara 2 della finale Scudetto, partita dalle mille emozioni in un palatrento imbattuto fino a ieri sera e che sembrava addirittura magico quando Lanza e compagni hanno annullato nel quarto set 4 match point avversari per vincere infine la frazione. Ma poi come se si fosse a Luna Park sulle montagne russe, Trento è precipitata malamente nel quinto. 31-33, 25-22, 24-26, 30-28, 7-15, parziali dei set, 2 ore e 35 minuti di gioco, ora i marchigiani conducono 2-0 nella sfida e avranno domenica in casa il match ball tricolore per la Diatec, invece vincere per allungare la serie. Assolutamente, abbiamo lavorato bene questa settimana e andremo lì a dare tutto in campo, combattere dal primo all'ultimo punto e cercheremo di vincere lì.